Cioè noi, questo deve essere ripetuto mille volte, in passato non siamo mai stati in una situazione di rischio, di escalation fino al conflitto nucleare come oggi. Cioè nella guerra fredda sarebbe stato impensabile che i migliori editorialisti occidentali si dedicassero a difendere l'ipotesi di una continuazione di una guerra in Europa persino con ora truppe mercenarie, ma come sai dopo le fughe in avanti di Macron si è capito che si sta valutando nella Nato e in Europa la possibilità ai truppi regolari. In Europa contro la Russia che non è l'Unione Sovietica, cioè non è il rivale imperialista e ideologico dell'Occidente, ma che rimane una potenza nucleare. Ora, per la prima volta succede questo, le nostre classi dirigenti in Europa, la maggioranza Ursula, ma la destra, i moderati di destra come il centro-sinistra, ci stanno gradualmente portando veramente come i sonnambuli di quel libro meraviglioso di Clarke sulla prima guerra mondiale, verso un escalation che non è detto che siano capaci di controllare. Come tu sai, sui giornali più importanti, più letti, giornali del mainstream, noi vediamo che anche i migliori commentatori, per esempio io leggo Quirico che è una bellissima penna, ma anche Quirico che cerca di portare una voce di razionalità e dice beh ma stiamo attenti perché c'è una possibilità di escalation in corso. Lo stesso Quirico poi dice beh Putin con la sua brutalità che ha dimostrato a partire dal 24 febbraio del 22 sta minacciando la guerra nucleare. Ma qui non si tratta di Belzebù, qui si tratta di relazioni internazionali che sono basate su determinate regole. Ora se la Nato entra in guerra in Europa contro la Russia, a parte il fatto che la Nato come potenza militare, economica e anche di soft power è molto più potente della Russia, è chiaro che la Russia, ma io credo qualsiasi dirigenza ci sia in Russia, sente che la situazione è una minaccia esistenziale alla Russia. E come c'è scritto nella dottrina militare, nel momento in cui un paese sente la sua sicurezza minacciata, il ricorso all'arma nucleare diventa una difesa. Quindi meno male che Putin lo dice dalla mattina alla sera. E allora senti questi deliri sui giornali, no ma non è vero, Putin lo sa che non può ricorrere all'arma nucleare. Ma non ho capito, vogliamo andare a vedere il blef? Esattamente. Cioè è pazzesco, poi alla fine diremo, ops ci siamo sbagliati, il ricorso all'arma nucleare. Così come abbiamo detto, ops ci siamo sbagliati, invade veramente l'Ucraina. Cioè io trovo che questa politica estera mai è stata così. Anche la politica che figurati è stata criticata, ormai sappiamo tutti che ha avuto dei punti veramente oscuri, che è stata quella della guerra in Vietnam, o anche le guerre di esportazione della democrazia. Sono atti terribili, atroci, che hanno portato morti e distruzioni e a volte non si è neanche capito qual era lo scopo strategico. Tant'è vero che il Medio Oriente non ha portato in Afghanistan, in Iraq e neanche in Libia a progressi per gli equilibri occidentali. Anzi, siamo indietreggiati.